Perchè io mi sarei messo o nel borgo oppure nel viale quello dei negozi e a cappello, dove andiamo? Andiamo uno più figo Oh allora dobbiamo tirare su le bici per andare a fare la spesa Ci vai te Scusi, signore mi dispiace se faccio un po' di musica qua davanti? No, mi piacere, vai da qui La ringrazio Io non ce l'ho cascata neanche un seguito, ho detto figurati se adesso un produttore arriva così, tutto sgangherato e mi dice fai quello che vuoi tu Non pensavo il riscorso della figura dell'artista di strada come un po' un mendicante, invece è un guerriero, un artista di strada invece è una persona che è in grado di gestire le energie Non mi ricordo quando io non conosceva le parole, no? Quando non se le ricordava, allora lui stava col microfono davanti e io che suggerivo le parole nell'orecchio Mettifare? 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 Mettifare?